Ora con Factorial puoi gestire le assenze in ore facilitando le richieste di tempo libero. Questa nuova opzione ti consente di contare le assenze in modo molto più conciso e dettagliato. In questo aggiornamento del software abbiamo reso possibile modificare impostazioni come scegliere se contare le assenze in ore o giorni, decidere il numero di ore che possono essere accumulate al termine dell'anno o del periodo. Inoltre, puoi decidere se i dipendenti vedranno tutte le ore accumulate in una volta o se Factorial le mostrerà in maniera proporzionata. Quando un dipendente richiederà un'assenza in ore, questa sarà visibile nel calendario aziendale e nel calendario dei turni, così potrai assicurarti che il turno assegnato al lavoratore non si sovrapponga alle sue ferie. Nel portale dei dipendenti verranno visualizzati in ore anche i contatori con le ferie e le assenze del lavoratore. Il tempo utilizzato verrà sottratto dalle ore disponibili e aggiunto al registro delle assenze. Puoi aggiungere o sottrarre le ore disponibili individualmente a ciascun dipendente e modificarle in qualsiasi momento. Con questi miglioramenti e grazie alla possibilità di contare le ferie in ore, la gestione delle assenze sarà ancora più veloce ed efficiente.